Non si dà pace il presidente d'Insieme per il Centro Abruzzo Antonio Ruffini che dopo aver scritto al capo del governo Matteo Renzi al ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi interpella questa volta le associazioni ambientali di Greenpeace e Legambiente WBF per ribadire la pericolosità dell'introduzione del metanodotto a Sulmona in Valle Pelinia. La realizzazione dell'infrastruttura così come progettata comporterà inevitabilmente una sensibile alterazione degli habitat naturali per l'impossibilità di ripristinare le condizioni ecosistemiche preesistenti ed inoltre secondo Ruffini creerebbe nella fase di cantiere una situazione di assoluta gravità e pericolo per le specie rare presenti sia faunatistiche che floreali come pure per i numerosi attraversamenti ricorsi d'acqua la cui fauna ittica e gli ecosistemi fluviali esistenti subirebbe dannose conseguenze. L'opera pertanto produrrà un impatto ambientale fortemente negativo sull'intero paesaggio appenninico. Il presidente dell'ICA ribadisce così che si tratta di un vero e proprio disastro ambientale e chiede aiuto alle associazioni che tutelano l'ambiente per trovare la migliore soluzione possibile allo scopo di tutelare la salute delle popolazioni interessate dal metanodotto e il patrimonio nazionale ambientale appenninico.